Perché non vado a prendere come confronto i portafogli inferiori? Secondo me la risposta è molto semplice. Se noi ad esempio andassimo ad investire con un portafoglio che ha un profilo di rischio molto basso, ad esempio il 2, vediamo che in 10 anni ha performato il 32,3% per una media di circa il 3% all'anno. Ora, le considerazioni che mi vengono immediatamente da fare sono molto semplici ma sono anche altrettanto vere. Allora, innanzitutto, a mala pena abbattuto l'inflazione. Quindi già a questo punto ci fa capire che noi siamo andati a correre un rischio, abbiamo pagato un servizio e l'abbiamo pagato anche abbastanza caro e abbiamo a mala pena abbattuto l'inflazione. Questo senza tenere conto dei costi. Interrompo 5 secondi questo fantastico video solamente per parlarti di Ledna. Ledna è una piattaforma di lending e permette di ottenere interessi andando a depositare Bitcoin oppure USDC. I tassi sono molto interessanti, oltre a questo Ledna è molto trasparente, ogni 6 mesi va a fare la Proof of Reserve, ovvero una società esterna pubblica va a controllare i bilanci e certifica e soprattutto ci comunica la situazione finanziaria di Ledna, che fino all'ultima Proof of Reserve è veramente ottima. Se non ti sei mai iscritto oppure se sei interessato trovi il link in descrizione. Con questo ho finito, buon proseguimento del video. Se noi in questi 10 anni andassimo a levare i costi a questa performance, vedremo che noi non abbiamo neanche battuto l'inflazione. Quindi abbiamo rischiato, abbiamo beccato 10 anni un mercato azionario pauroso che ha permesso a questo portafoglio comunque di performare abbastanza bene. Il mercato azionario in questi 10 anni ha performato in una maniera allucinante e in questo portafoglio ad esempio ci sta l'azionario. Quindi sicuramente questa over performance del settore azionario ha anche aiutato questo portafoglio a stare alto. Quindi diciamo che se dovessimo beccare nella prossima decade, come potrebbe succedere, un mercato azionario che non spinga veramente tantissimo come ha fatto negli ultimi 10 anni, bene, potremmo ritrovarci ad aver corso un rischio, aver pagato un servizio e stare molto in perdita. Perché tra costi e inflazione potremmo sostanzialmente aver perso soldi in un orizzonte temporale comunque di 10 anni. Quindi secondo me andare su un rischio basso, visto il costo del servizio che rimane uguale indifferentemente da quale portafoglio scegliamo, infatti noi pagheremo l'1,5% fino a 20.000 su qualsiasi portafoglio, sia che sia l'1, quindi pochissimo rischioso, sia che sia il 7. Quindi secondo me andare diciamo dal 5 in giù su Money Farm non ha minimamente senso. Questo è un mio parere personale, sarà un limite, ma io non posso pensare di pagare un servizio, pagarlo anche abbastanza caro, per avere anche una alta probabilità di andare a perdere. Questo secondo me è totalmente inconcepibile. Ora passiamo al quarto punto, ovvero i pregi. Infatti sto dicendo alcune cose negative, ma come ho detto all'inizio il prodotto è assolutamente valido. Infatti tra i pregi, magari li metto più grandi, se no vi serve un microscopio per leggerli. Allora, tra i pregi vediamo. Diversificazione. Sicuramente il servizio di Money Farm permette agli investitori un'ampissima diversificazione. Infatti i loro portafogli sono costituiti da 6-7 ETF, più o meno, 3-6-7 ETF appunto, e permettono una diversificazione geografica, valutaria, di asset allocation, veramente vasta. Quindi dal punto di vista della diversificazione, che poi è uno dei principali errori che fanno le persone inesperti nel settore, è sicuramente eccellente. Quindi 10 elote secondo me per quanto riguarda la diversificazione. Il secondo punto è la semplicità. Anche questo, che dire, chapeau, la semplicità di Money Farm è sicuramente il suo valore aggiunto. Infatti una persona che non capisce nulla di queste cose, che magari nella vita fa il chirurgo, il dottore, l'ingegnere, e non gliene frega niente, non gliene frega una mazza della finanza, può tranquillamente aprire Money Farm, fare un bonifico e non fare nient'altro. Sicuramente è meglio che tenere i soldi fermi in banca. Quindi secondo me la semplicità veramente ottima. Tra l'altro Money Farm ti manda dei report, non mi ricordo perché ormai non sono più il loro cliente da un bel po' di tempo, non mi ricordo ogni quanto, però ti manda dei report in cui spiega tutta la loro visione macro, ti manda le loro strategie, le loro idee, quindi secondo me è molto molto interessante. Terzo punto la trasparenza, ma l'ho già detto prima, non mi ripeto. Secondo me sono molto trasparenti per i costi, per il servizio, per tutto quello che riguarda loro, i rendimenti, quindi anche qua tanta tanta roba, soprattutto visto che l'industria è molto sporca. Il quarto punto il report è supporto tecnico-psicologico, il report l'ho appena detto, mentre il supporto tecnico-psicologico secondo me è qualcosa, è un valore aggiunto per tutte quelle persone che necessitano di questo servizio. Io ad esempio non necessitavo di questo supporto, però tantissime persone fa piacere avere la chiamata del consulente che comunque sia ti tranquillizza, ti spiega magari la situazione attuale, ti spiega perché hanno fatto certe mosse e tutto quanto. Quindi per alcune persone secondo me il supporto, la possibilità di poter contattare un consulente che effettivamente ti risponde, e io ricordo che era anche preparato quello che mi ha risposto a me ad una certa domanda, quindi sicuramente valore aggiunto, quindi ottimo. Il quinto punto, risultati e statistiche al supporto, ovvero come abbiamo visto prima, il portafoglio 7 ha comunque performato alla grande. È vero, poteva fare molto di più, un semplice 80-20 ha fatto una performance migliore, anche di volatilità, di deviazione standard, però comunque sia il portafoglio 7 e anche il portafoglio 6, magari prima non l'ho fatto vedere ma ve lo mostro subito, anche il portafoglio 6 ha comunque reso un 102%, quindi comunque sia ottimo, sempre all'ordo delle commissioni, ricordiamocelo. Quindi secondo me questi sono i pregi, nel caso in cui vi dovesse interessare Money Farm, sappiate che secondo me questi sono dei punti veramente ottimi a favore di questa società. I difetti quali sono in particolare? Come si è già capito da quello che ho detto fino ad ora, secondo me il difetto numero 1 è il costo, perché secondo me se tu vuoi essere un robo-advisor, quindi vuoi attuare delle strategie comunque di massa, cioè si vai a profilare il cliente, gli vai a creare il suo portafoglio personalizzato, ma comunque sia hanno 7 modelli da spalmare su migliaia di utenti che potrebbero avere migliaia di situazioni differenti, quindi comunque sia non è un consulente personale, eppure il costo è più o meno quanto quello di un consulente personale, ovviamente indipendente, quindi un consulente finanziario indipendente, non di una banca. Quindi secondo me il costo è veramente eccessivo. Il secondo punto è barriera d'ingresso, come potete leggere voi stessi, non mi vado ad andarlo a riprendere, però sappiate che è così, non potete investire meno di 5.000 euro, quindi se avete 3-4.000 euro non potete fare nulla, dovete aspettare di arrivare a 5.000 e poi investire. In passato era diverso, si poteva iniziare a investire anche con 100 euro. Comunque sia questa è la nuova regola, quindi barriera d'ingresso abbastanza alta per tante persone. Tante persone non hanno subito 5.000 euro da investire, anzi per tante persone iniziare a investire proprio da 1.000 euro e poi andare a accumulare mese per mese è importante, quindi secondo me questo qua è un difetto che avrebbero potuto evitare. So perché l'hanno fatto e hanno le loro ragioni, però da cliente secondo me questo qua è un difetto. Terzo difetto, alternative migliori. Questo lo vediamo tra poco, ci sono alternative che sono estremamente valide, estremamente efficienti, hanno tutti i bad test a loro supporto e sono veramente semplici. Quindi secondo me questo difetto, cioè avere un competitor che veramente fa il tuo stesso lavoro più o meno, dopo vedremo che non è proprio lo stesso lavoro, però un competitor che fa le stesse cose, con migliori performance, a minor costo, ovviamente a te ti pone in una situazione di svantaggio. E quindi è un difetto lato utente, perché io avrei un'alternativa effettivamente migliore. A meno che non sono amico di quello che mi risponde al telefono e quindi ci tengo a fare i tuoi chiacchiere così, come è andata oggi, come va il mio portafoglio, insomma, ma non ha senso. Quando si investe, si pensa al rendimento, al guadagno, alla sicurezza del portafoglio, eccetera eccetera. Le amicizie, i rapporti, i legami vanno completamente dimenticati, perché altrimenti non si fanno scelte razionali. Il quarto problema è la tassazione. Siccome Money Pharma va ad agire con la gestione amministrata, ogni anno va a pagare le tasse su eventuali plusvalenze oppure minusvalenze. Questa cosa da un punto di vista fiscale è abbastanza inefficiente, perché nel momento in cui noi andiamo a pagare le tasse su quello su cui abbiamo guadagnato, e poi dovessimo magari reinvestirli, avremo un problema, perché non andremo a sfruttare l'interesse composto sulla parte in cui abbiamo pagato le tasse. Per farvi un esempio, se io avessi 100 euro che maturano il 10% ogni anno, e non dovessi vendere, io il secondo anno avrei 110, e il 10% di nuovo di 110, non è più 10, ma è 11. Stessa cosa per gli anni a venire. Nel momento in cui però io faccio 110, perché faccio il 10%, vado a vendere, e quindi realizzo una plusvalenza di 10 dollari, io vado a pagare il 26% su quei 10 dollari. Quindi andrei a pagare 2,60 euro. Bene, dopo l'interesse composto non sarà più su 110, ma sarà su 110 meno le tasse che ho pagato. Quindi sostanzialmente è un meccanismo fiscalmente inefficiente. Sul lungo termine è preferibile evitarlo. È vero che fanno tutto loro, è vero che è bello, quello che vi pare, però fiscalmente è inefficiente. E secondo me questo qua è un difetto. Abbiamo visto i pregi, i difetti, abbiamo visto insomma quello che fa, abbiamo visto tutto quanto? Andiamo a vedere che cosa ne penso io personalmente. Quindi opinione completamente personale. Non è la realtà, non è la verità, è la mia semplice idea. Cioè quello che penso io di questo servizio. Il prodotto, come ho scritto qui, è valido senza dubbio. E per alcune persone può avere assolutamente senso investire in Money Pharma. A che tipo di persone mi riferisco? Mi riferisco a delle persone a cui veramente non frega assolutamente nulla della finanza e che non hanno la voglia per capire come fare in maniera autonoma. Se si hanno delle solide basi che si acquisiscono, ovviamente parlo proprio delle basi, non sto dicendo che basta questo. Però secondo me con due, tre libri letti in due mesi, insomma a stare pure larghi, si può veramente avere una base per fare molto meglio. Nel caso in cui noi non volessimo proprio fare questa cosa, nel caso in cui a noi proprio non ci interessasse, volessimo solamente mettere i soldi per non lasciarli in banca a marcire, allora in quel caso secondo me Money Pharma ha senso. Anzi, in quel caso secondo me Money Pharma è la migliore alternativa, cioè è veramente un servizio valido per quel tipo di persone. Però come vedete qua al punto due, esistono alternative migliori. Per quelle persone che pensano che lavorano otto ore al giorno per guadagnare soldi e che sarebbe anche intelligente capire come metterli a rendita nella maniera più efficiente possibile, esistono alternative migliori. Soprattutto perché, come ho scritto al terzo punto, il costo è elevato. Senza se, senza ma, senza è, però, loro fanno. Il costo è elevato. Ci sono alcuni fondi privati che, a gestione attiva, costano lo stesso, l'1,5%. Quindi, secondo me Money Pharma non si può porre come competitor dei fondi a gestione attiva ed applicare, alla fine, come totalità del costo, un costo simile a molti fondi. L'1,5%, il 2%, più o meno siamo lì. Poi ci sono fondi che costano anche il 3-4%, ma lì siamo completamente fuori di testa. Cioè, se una persona sottoscrive un fondo che costa il 4% all'anno, secondo me è completamente fuori di testa. Cioè, non ha senso. Non ha statistica a supporto, non ha backtest, non ha risultati. Ha tutto contro. Quindi, se poi, vabbè, qualcuno lo volesse fare, secondo me è completamente masochista. Magari arriva la sera e si fustica da solo la schiena. Per me il concetto è più o meno lo stesso. Quindi, vabbè, ora sto esagerando, però, insomma, voglio far capire il concetto. Quindi il costo è elevato, senza se e senza ma. Lo consiglierei solamente a chi veramente non ha interesse. Curiosità o voglia di capire come fare autonomamente. Per tutti gli altri è uno spreco di soldi. Quindi questo è quello che penso. Che cos'è che, secondo me, è molto meglio? L'ho scritto al punto 7, alternativa validissima e backtest. Bene, al punto 7, mi dispiace farlo, ma il video, secondo me, diventa troppo lungo. Questa cosa merita molta più attenzione e molta più analisi. La vedremo nel prossimo video. Quindi, scusami se non te lo dico in questo, ma se lo facessi in questo video, il video rischerebbe di durare veramente troppo. Il prodotto è molto valido, è molto efficiente. Però non te lo voglio spoilerare. Scrivimi nei commenti se hai capito di che cosa sto parlando. Sappi che è un prodotto molto valido, molto efficiente e, secondo me, è un prodotto che, essendo, vabbè, non voglio spoilerare troppo, però comunque sia, è un prodotto che è di fatto più o meno un competitor di Money Pharma. Scrivimi nei commenti se hai qualche idea. Vediamo se qualcuno di voi ci indovina. Con questo ho finito. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Iscriviti se vuoi vederlo, così magari non te lo perdi. Oppure metti la campanellina o quello che ti pare. Mettimi un like se ti è piaciuto un video. Un saluto e alla prossima. Un saluto e alla prossima. Grazie a tutti.